Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il presidio è aperto 6 giorni su 7, dalle 8 fino alle 20 oggi c'è un incremento, un aumento della possibilità di erogare servizi specialmente in discipline come la reumatologia, l'oculistica, la vulnologia, l'endocrinologia, la ginecologia. Proprio per quanto riguarda la ginecologia abbiamo un progetto di integrazione ospedale-territorio. Questo presidio oltre ad avere anche un aumento dei servizi è un presidio importante in un luogo importante della nostra regione. Il nuovo distretto sanitario di via Riosparto a Pescara ha inaugurato la scorsa estate e si presenta innovativo con spazi pensati per assicurare il benessere dell'utenza e degli operatori sanitari. Ora potenzia i propri servizi non solo attraverso il trasferimento di alcune branche specialistiche da via Rieti ma anche con l'aggiunta di alcune novità così come spiegato dall'assessore alla sanità della regione Abruzzo Nicoletta Verì. Aperto dalle 7.30 alle 20, 6 giorni su 7, alle 8 per le attività ambulatoriali, mezz'ora prima per i prelievi. Proprio studiato in base alla densità della popolazione e alla richiesta dei nostri pazienti. Abbiamo valutato questa possibilità di ampliare questo distretto proprio nelle finalità di quella che è la nostra rete territoriale che vede sempre di più aperte nel futuro, nel prossimo futuro, le case di comunità e per poi avere anche gli ospedali di comunità.